È già iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del pronto soccorso al Policlinico di Catania. Il trasferimento della struttura dall'ospedale Vittorio Emanuele alla sede di Via Santa Sofia è infatti previsto per il prossimo 18 novembre. La chiusura definitiva dell'intera struttura d'emergenza di Via Plebiscito renderà il pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi l'unico disponibile al centro della città, motivo per cui il presidio ospedaliero di Piazza Santa Maria di Gesù ha già messo in campo una serie di azioni dirette a gestire l'inevitabile incremento del flusso di utenti che interesserà la struttura. Tra gli interventi attuati negli ultimi mesi dal commissario straordinario dell'Arnas Garibaldi Giorgio Santonocito vi è innanzitutto un aumento delle superfici che passeranno dai 450 ai circa 1000 m2 attualmente disponibili, spazi più grandi che daranno vita a nuove aree, a partire da un ambulatorio codici bianchi vicino al pronto soccorso gestito dai medici dell'ASPE di Catania, ma anche una nuova postazione ticket, un'ulteriore sala d'attesa per i pazienti già accettati, nuovi spoglietoi per il personale, la sistemazione per la camera bianca delle ambulanze e l'aggiunta di una nuova area di osservazione breve intensiva. Importanti anche i nuovi interventi di tipo tecnologico. Tra le novità, il rifacimento della radiologia di pronto soccorso, quello del complesso operatorio per l'emergenza, ma anche la connessione diretta per visualizzare i referti di laboratorio e quelli radiografici. Inevitabile anche un rafforzamento dei sistemi di sicurezza. È stato infatti raddoppiato il personale di vigilanza e attivato un sistema di allarme anti-aggressioni, istituzionalizzando l'uso dei braccialetti identificativi e collocando il posto di polizia in prossimità del pronto soccorso. Grazie.